La segnalazione, partita dalle scuole del paese, ha fatto scattare le indagini dei carabinieri della stazione di Campomarino e del nucleo investigativo provinciale. Gli accertamenti dei militari si sono concentrati nella zona degli istituti e in altri luoghi del centro-basso molisano. I riscontri hanno portato a delineare un quadro che vedeva piccole piazze di spazio rivolte ai ragazzini di soli 14 anni. Diversi episodi individuati dall'arma che vedevano come vittime proprio alcuni alunni di terza media. A loro veniva fornita la droga a Shisho Marijuana da parte di due persone che devono rispondere adesso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di minorenni, ristrette agli arresti domiciliari. Si tratta di un uomo di 36 anni e una donna di 24 italiani e residenti in paese. La droga, stando alle risultanze investigative, arrivava dal Foggiano e veniva smerciata sulla costa, arrivando a coinvolgere proprio i ragazzini. Se non avevano la possibilità di pagare la situazione, si complicava, tanto da portare, come hanno evidenziato il maggiore Fabio Ficucello e il maresciallo Arturo D'Amico, a violenze fisiche e a privazioni, ad esempio del cellulare, fino a quando il debito non veniva saldato. I militari sono riusciti a raccogliere gli elementi che hanno portato alla firma dell'ordinanza da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, Daniele Colucci, con la misura cautelare dei domiciliari. Le attività investigative non sono concluse e non si escludono pertanto nuovi sviluppi su questa vicenda, seguita dal procuratore di Larino, Ludovico Vaccaro. Il comandante della Compagnia di Termoli, Fabio Ficucello, ha evidenziato il lavoro di squadra svolto in collaborazione con la stazione di Campomarino e la sensibilità dei dirigenti scolastici in un'ottica, ha osservato, di diffusione della cultura della legalità e di crescita da parte di tutti, in modo tale da diffondere e inculcare questi temi anche e soprattutto in una corretta opera di prevenzione.